Francesco Crispi Francesco Crispi Francesco Crispi Il Parlamento di Torino tenta una difficile mediazione tra l'opzione monarchica e la fedeltà a Garibaldi e a Mazzini. Poi nel 1864 accetta definitivamente la monarchia sabauda, salutata come garanzia di unità del paese. Si oppone all'istituzione della tassa sul macinato, che colpiva i consumi dei cereali, aggravando le condizioni delle classi più umili. Contro la destra, che guida i primi governi unitari, si batte per Roma capitale. Nel 1876 è eletto presidente della Camera dei Deputati. L'anno seguente incontra il cancelliere tedesco Bismarck, al quale si lega in un rapporto di stretta amicizia. Ministro dell'Interno nel secondo governo De Pretis, nel 1878 è costretto a dimettersi per l'accusa di bigamia, mossa gli da alcuni avversari politici. Con Zanardelli, Cairoli, Baccarini e Nicotera, forma la pentarchia, per guidare l'opposizione di sinistra. Nel 1887 torna al Ministero dell'Interno ancora con De Pretis, e alla morte di questi, assume la carica di presidente del Consiglio, nonché l'interim degli esteri. Sostenitore convinto della triplice alleanza, favorevole al protezionismo industriale, avvia all'interno un'intensa stagione di riforme, e introduce il nuovo codice penale, redatto da Giuseppe Zanardelli. Sul piano internazionale, accresce l'impegno italiano in Africa orientale, mirando con il Trattato di Uccialli, 1889, a sottoporre l'Etiopia, al protettorato italiano. Caduto al governo nel 1891, torna al potere nel dicembre 1893, nel clima infuocato dello scandalo della Banca Romana, e cerca di affermare un governo forte, capace di contenere il conflitto politico e sociale, che caratterizza questa fase storica. Nel gennaio 1894, di fronte alla protesta contadina dei fasci siciliani, proclama lo Stato d'assedio nell'isola, quindi reprime con durezza le manifestazioni di dissenso, arrivando a sciogliere nello stesso anno il partito socialista dei lavoratori italiani. A Napoli, scampa ad un attentato, quindi, investito a sua volta dallo scandalo della Banca Romana, si scontra con Giolitti. Il 1 marzo 1896 la sconfitta dei reparti italiani ad Adua, determina il fallimento della politica di espansione coloniale in Etiopia, e con esso, la crisi dell'esecutivo, e la fine della carriera politica di Crispi. Muore a Napoli, l'11 agosto, 1901. Grazie a tutti.